Andiamo? dai mo dai che ci sono dai che ci ha finito questi campi qua andiamo andiamo non mi ricordo se forse abbiamo già finito quel quadrettino là è Erma no mi sembra che è ancora da fare quel quadrettino lì aspetta che io fatico con sto trattorino ci siamo tanto sto andando via vuoto non ti preoccupare allora passiamo vieni avanti vieni 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 allora occhio che giro allora andiamo 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 c'è la c'è Gabriele Gabriele ma c'è anche fino a fatto detto adesso arrivo 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 ma che finia fatto agri ehm 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 come sta al bar Chantley non c'è non c'è il capo come non c'è no te li stai lì Erma stai lì ma è andato in ferie come è andato in ferie qui adesso che stiamo lavorando come dei matti lui si prendeva in ferie guarda adesso appena lo pecco io appena lo pecco io vedi te è il capo il capo eh ah si come va sta trincia ma va va sembra che vada meno male non rompe pure questa mi raccomando no no questa 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 deve funzionare finchè non muore ehi eh si eh ma per un cento di capo non ce l'ha comprato eh cos'è che hai Gabriele non l'ho mai sentito sai c'è il barchino che va poco il capo dopo non ce l'ha comprato un altro eh eh oh andremo a mano dopo come fuma nero questa trincia ecco cosa avevo io no fuma nero è normale che fuma nero è normale è normale perché consuma e sta tirando eh ma Pierma stiamo facendo tutto il retro della trincia nuova via 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 tutto il biogas questo materiale? si tutto il biogas c'è qualcosa per pensare la intanto si si c'è l'autorium che abbiamo trovato una palla la bella palla gommata non c'è l'autorium in un'altra trincia nuova a scampo vai gabriele sono pieno se no lex il vice capo vincenzo andiamo a caprile e tanto c'è un'aria calda vediamo come c'è un'aria calda gennaio che ne so tuccio forte comodo vuole andiamo a Pat! demông bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb se tu che non lo sai usare eh mo sono io e certo è andato fino a ieri non l'ora fa è andato adesso non va più il manico eh che lo fa dico niente il manico è rotto no no se tu che si è rotto mica manico se tu che si è rotto mica manico marzo eh ho mangiato purtroppo e indietro Gabriele fa retromarcia abbiamo tutto in un blocco qua buono siamo è un po' lento partì questo eh ho capitato fermo lì fermo questo è proprio una lamata le buona Gabriele vai vai a votare che cambiamo cambiamo un pensamento andiamo allora chiudiamo vengo dietro il canotto dietro ok chiudiamo la parra davanti vai Gabriele allora via lampeggianti via andiamo Matt arrivo allora metti che c'è da qualche ghiaccio per la strada no 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 tutto pulito tutto pulito eh si 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 vai apri dai freni ci fa poco no eh già via che c'è passare mezzo l'acqua l'ho visto un po' via andiamo allora guarda qua Chandlin che ha abbandonato qualche il trattorino qua no l'ho trovato l'ho portato ah addirittura l'hai trovato abbandonato si l'ho trovato per strada si mannaggia no perché vai di là Gabriele è giù di qua più gas fai prima tagliaggio di qua uh 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 andiamo a passare di qua uh uh via allora l'altro campo dovrebbe essere questo qua allora ma 4 carlinelle per facolazione le uova la mattina no eh no non servono non serve andiamo giù di qua eccolo qua l'altro campo è un po' in apriamo se vuoi metta a far il giro dintorno possiamo provare eh appertami scingo possiamo provare ad agganciare il rimorchio dietro la trincia a far il giro dintorno se vuoi visto che c'è l'aggancio cosa dici lo sgancio qua allora apperti che te lo sgancio ok vai dopo tu lo agganci ma però si bravo allora opp allora posso venire si vieni 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 un altro pochetto vieni 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 così oh vai toccato tutto si bravo ok vediamo se potrebbe essere una cosa abbastanza intelligente eh già dopo magari nel caso stammi dietro che se nel caso si riempie così allo sgancio all'ultimo capito bene vengo dietro a te allora eh sì che detto così è un po' strana la cosa però eh già eh già attenzione molto attenzione guarda qua come in pendenza vara qua eh già ma guarda è diritto rimorchio va tutto storto anche lui no va dritto va dritto va dritto no io vado via tutto storto è obbligo no 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 è il terreno che è molto in obbligo eh questo è un bel campo questo eh in obbligo in obbligo ara ma sei arrivato il piogasso tapposto eh sì sono arrivato sono arrivato il piogasso sto tornando su ok abbiamo cambiato campo herman siamo al campo quello di fianco a casa praticamente quell'altro campo quello che trovi in strada ok uh adesso vogliamo fare un bel tutto il giro d'intorno tu herman cosa c'hai un rimorchio rallato o cos'hai herman io rudolf ah sì è vero eh no non si riesce a quello di attaccare la trincia purtroppo no no ops no ma che c'era un rimorchio rallato lo attaccavamo la trincia eh sì pazienza eh oh si fa come si può eh già l'italiano allora bet arrivo pieno sì bet che è un bel indietro vai aspetta mi sposto eh lo sgancio eh sì rimango rimango in pantanone un pochino avanti ma bene da lì da lì da tirarlo pieno questa grandeza qua ti tocca girarti e gira qui pesta un po' e poi vai fuori lì che c'è un passo sì sì vieni vieni troppo in là troppo in là aspetta che mi addrizzo occhio eh vieni vieni buono vai gira 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 vai bello vai bellino su vai bellino fortuna che c'è la strada qua sotto eh già vai bellino non la posso poi c'è la tua coppia l'arma beh dai così velociziamo un filino se un più vicino al biogas da qua eh che che spinge scusa eh dietro dietro va indietro indietro aspetta aspetta vai un filo avanti perché sono solo stazionata ora buona andiamo andiamo 10 o 11 11 perché non mi sembra che in certi casi 11 sia troppo troppo veloce ma no in altri casi troppo piano e magari è qui il scontro che non va bene Herman adesso sono a 12 e si sembra che non lo scopri che mi sta aumentando lui ok no no via via 11 11 vediamo anche i motori qui abbiamo il negozio vicino sto zero per fortuna sì via via ma fermo fermo che ho bisogno eccomi eccomi vai vai monto sulla trincia che vado a fare un salto in biogas a vedere cosa avete combinato in questo tempo va bene ma va al ford sì piano piano proviamo proviamo ma c'è una buona parte alta c'è caprile nella parte alta c'è messo la trincia e mi capo è di aspetto io via manetta siamo fuori ferro mario siamo la freccia faccio di mondo ecco questa macchina che deve arrivare su via oh che leggero via via la freccia via andiamo in biogas scaricare ah vuoi che c'è Gabriele Herman Gabriele Herman allora oh un po' instabile eh un po' un stable vai piano capo no no sempre a manetta 41 all'ora via andare a manico proprio finchè ce n'è si pesta quando non ce n'è più non si pesta più esatto a fuoco proprio eh l'Urem adesso qui c'è una bella salita da fare più che altro una bella bella salita yuppie no fermarti no fermarti no dai su 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 guarda come arranca però però c'è un bel train il frutino eh eh Matt si 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 va bene va bene molto dobbiamo dire al negoziante se gli ha proprio un pochettino la pompa però eh non so sentiamo adesso si fa proprio un po' di più eh non so per giusto che tiri un pelo in più eh si si anche dopo ti ho troppo esagerato esatto allora siamo arrivati alla planta dei biogass dai su 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 oh si è pesante sto rimorchio 83% vai gabriere ancora allora andiamo a scaricare cosa diamine hanno fatto super bohcom perché c'è tutto spianato qua come c'è tutto non c'è paura pieno 96 arriva arrivo non c'è paura 99 100 scarichiamo una lunga allora ah che dite vado gabriel giù eh si si ah io sto un po' qui in pala sistemare un po' i danni che avete fatto voi avete fatto un bel po' di danni eh i danni eh addirittura eh certo allora mettiamolo qua fuori di piedi qua spegniamo e andiamo sulla trince sulla torion hop e indietro herman facciamo così ok impareggiamo un pochino il mucchio così quasi facciamo un mucchione diretto visto che è già tutto predisposto così quando torno al capo ma non c'era mica chanterina su sulla torion prima anche ma io non l'ho visto eh ma tu prima non c'eri quando abbiamo iniziato a trinciare no no herman gabriele voi che c'eravate si era lì ma non so dove si è andato si vede che ha ricevuto qualche notizia ah beh adesso 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 gli metto a posto io tutta la trincea ma sta al bar da ah sicuro sicuro ora sei fatto da un po' che siamo quasi aveva fatto qualche conoscenza una giornata magari sei fatto anche una qualche amichetta magari ah poterci qualche amichetta eh dopo 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 io lo do io dopo qualche amichetta qua siamo tutti a lavorare e lui a divertirsi ma cosa sta storia Gabriele fai il giro fai il giro che scarichi dall'altra parte perché non si usa non si fa così una trincea è iniziata così eh ma non vuol iniziare non vuol fatta così una trincea vuol fatta vuol partita aspetta venire dentro Gabriele aspetta venire dentro aspetta trincea vuol fatta mucchio non ha alla cavolo come è fatta questa questa è proprio fatta a cavolo adesso quando quando torna a casa il capo vedete è iniziata signor Pagno Pagno? eh si allora anche quando ritorno al Pagno vedete li prendo tutti per le orecchie li prendo tutti 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 il capo hai visto? tutti tutti anche il capo tutti il capo è il primo il capo è il primo posso? no eh aspetta 30 secondi se no vai dall'altra parte se no però ti chiedo scusa vai dall'altra parte scarichi proprio davanti davanti Gabriele eh faccia prima no? se si vai là davanti scarichi direttamente davanti qui c'ho già un c'ho già un mucchio dopo che sto creando il mucchio là in fondo io avrebbe creato il contrario però chi ha iniziato la trincea non ci ha pensato se io lo faccio così lo spinge non lo savo io sono all'80 ragazzi si si adesso arriva Gabriele guarda ok ok l'importante è solo avvisarvi si si stai tutto dalla parte verso la stazionata esterna Gabriele bravo boh boh vai avanti vai avanti vai avanti vai avanti vai avanti boh fai tutto un mucchio da lì fermo fermali 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 fai un bel mucchio lì vai avanti piano piano tutto a fare così per capirci dentro qualcosa perché sennò ragazzi no vai scusa prego Agri Herman addirittura d'arrivo molto bene Gabriele è appena partito ok su cui avete fatto un casino chi c'era prima intenzione ci ha fatto un casino che davvero quando quando torna guarda mi prenderlo per le orecchie da verde chi l'ha fatto mi ha spagnito ha capito è stato pagno pagno non c'è stato solo un viaggetto allora allora quindi ci stiamo a matrice aia ciao 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 ciao